Ciao, sono Alessandra Lagezza e dal 2018 ho l'onore di rappresentare Retake nella mia città, Taranto, la città dei due mari. Nel tempo libero noi volontari dedichiamo energia, positività nel ripristino di ciò che altri in maniera inopportuna e inadeguata hanno deturpato. Il 23 aprile per la giornata mondiale della terra semineremo bellezza presso il lungomare di Taranto, un luogo storico della città.